Musica Dallo scorso 8 luglio l'azienda agraria Semonte, stesa sulle colline della zona ovest dell'Eugubino, ha aperto le porte della propria cantina, custode di vino antico e nobile di grande eccellenza, intriso di storia e di passione. La cantina Semonte nasce dall'intuizione e dalla scelta coraggiosa della famiglia Giovanni Colaiacovo, che ha sempre creduto nei valori di un territorio unico nel suo genere. Sarà un nuovo prodotto di questo territorio. A Gubbio mancava completamente una cantina, mancava completamente una cultura legata al vino. La mia famiglia, devo dire in particolare mio fratello, ha avuto questa passione insieme a un suo carissimo amico, che è Marco Caprai, che ci ha anche aiutato nell'entrare nel grande mondo dei vini. Così ci siamo appassionati e con lui abbiamo iniziato questa vendura. Poi abbiamo scoperto che da una parte abbiamo recuperato vecchi vitigni, come il nebbiolo di Gubbio, tanto decantato e tanto citato nelle guide di Vioronelli. Inoltre però, quello che è stata la vera sorpresa è stato quello di produrre questo pinot nero in altitudine, e quindi a 900 metri d'altitudine, sulle marne di San Marco, avere questo pinot nero per poi produrre un metodo grassico che diciamo che in Umbria è un prodotto unico. La cantina è visitabile e tutti i giorni, da lunedì alla domenica, ospiterà quanti vorranno degustare i vini e i prodotti del territorio. Sarà disponibile venire a visitare la cantina tutto il giorno e sarà anche possibile venire a degustare i nostri vini e i nostri prodotti tipici nella nostra degusteria. Noi siamo partiti con il Cordaro, che è un dolcetto. Poi produciamo un Monteleto, che è uno Chardonnay a 100%, e un metodo classico Brut, dal nome Battista, prodotto con le uve Chardonnay e Pinot Nero, vinificato in bianco. Che tipologia di vasche di fermentazione sono queste? Allora, queste sono delle vasche di fermentazione in cemento, vengono soprannominate tulip alla base della loro forma, che ricordano appunto quella di un tulipano. Sono, diciamo, ritornati in auge negli ultimi anni, proprio grazie a questa forma che sposa esigenze tecniche e di design. Di che caratteristiche hanno queste vasche di fermentazione? Innanzitutto viene controllata la temperatura in qualsiasi situazione. All'interno sono vetrificate e quindi servono a fermentazione, per la maggior parte dei casi, di vini bianchi o spumanti. Sono all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. Penso che non abbiamo meglio in giro, qui in Umbria, a livello di utilizzo di questo tipo di materiale per fare lavori di cantina. Questa è la nostra barricaia, un luogo controllato per temperature e umidità, in cui mettiamo queste barrique di rovere francese, in cui metteremo e produciamo e manteniamo per 24 mesi il nostro vino rosso, il Cordaro. Il Cordaro, che è composto dal 90% da dolcetto, 10% da merlot, come diceva Giovanni, rovere francese del massiccio centrale. Sono di diverse tipologie, trunzo, nevres e allier. L'azienda ha ospitato la Gubbio Food Experience e l'evento Battista Day, un picnic tra i vigneti, che ha voluto rendere omaggio alla donna del Duca di Montefeltro, Battista Sforza, nel 549esimo anno dalla morte. Una serata in cui ancora una volta qualità, cura del dettaglio, promozione delle eccellenze del territorio, sono state le cifre che hanno contraddistinto l'Associazione Host e le attività che hanno collaborato per la riuscita della serata. I ragazzi di Gubbio Host, devo dire, che stanno facendo un lavoro splendido per la città e per la valorizzazione dei nostri prodotti e soprattutto per la valorizzazione delle nostre professionalità. Noi abbiamo tanti giovani cuochi che si stanno impegnando e che stanno animando i nostri ristoranti nella nostra Gubbio. E questo è sicuramente un cambio generazionale molto importante perché oggi la ristorazione e la gastronomia sono uno dei volani dell'economia del turismo dei territori. È stata una piacevole collaborazione che ci ha permesso entrambi di poter valorizzare sia un luogo del territorio che poter affidarsi a un'organizzazione che già lavora nella città di Gubbio da diverso tempo e che organizza validi eventi. Noi siamo felici appunto di averli ospitati. Per noi questo è un evento molto importante. Per prima cosa perché è un prodotto eugubino, finalmente abbiamo un vino eugubino, una bolla eugubina di un certo livello e noi che facciamo promozione dei prodotti del territorio per noi è stata una cosa eccezionale e noi siamo soprattutto lusingati che ci hanno chiamato a fare questa apertura ufficiale della cantina. La nostra famiglia si è allargata, abbiamo questa sera prefermento con Alessandro e placebo con Giorgio. Alessandro farà appunto tutta la parte della pizza e Giorgio poi si dedicherà in seconda serata ai drink. Quindi abbiamo questo connubio per i picnic, pizza e drink. Insieme poi alla musica degli swingarella che parteciperanno al nostro evento. Abbiamo preparato un panino al sesamo con all'interno pullet pork, salsa barbecue fatta in casa lasciata rustica e un'insalatina di cavolo cappuccio e insalata queslo. Ho preparato un pastrami all'italiana, carne di vitello cotta a bassa temperatura con una maionese di senape e miele e con cetriolino e daikon in osmosi. Abbiamo realizzato un panino con la farina di tipo 2 integrale, poi dentro c'è polla arrosto, spinaci, salame e salsa tonnata. La chicca finale è il Cerasino che è un vino aromatizzato alle visciole, l'ultimo nato dell'azienda agraria di Semonte. È un vino rosso con un infuso di visciole naturalmente e senza annata. Viene prodotto in piccole quantità, è una piccola chicca e è fatto con uve da Sangiovese grosso che è il vitigno che viene usato anche per produrre il brunello, per capirci.